Dottor Damario, questa importante iniziativa che illustrate oggi va nel senso di poter far sì che i degenti dell'ospedale di Pescara possano soprattutto nel periodo estivo stare meglio in ospedale grazie anche a questi condizionatori. Abbiamo una procedura grazie ai finanziamenti ministeriali per la reingegnerizzazione che prevederà il potenziamento sia dei percorsi, gli ascensori, il nuovo sale operatorio, la climatizzazione, tutta una grande reingegnerizzazione. Naturalmente queste grandi procedure richiedono tempi molto lunghi e nel frattempo avere queste risorse veloci di integrazione che migliorano l'aspetto domestico alberghiero per questa tipologia di paziente che purtroppo è costretto a venire in ospedale con elevata frequenza per la dialisi e anche per rimanere per tempi molto lunghi. Quindi sono ambienti dove la qualità, la climatizzazione rappresenta sicuramente un grande obiettivo sia per loro ma anche per chi ci lavora. Attraverso uno spettacolo teatrale, una cura di palcoscenico 95 con la compagnia teatrale di Pescara e senza scopo di lucro, con la media dei biglietti da parte delle associazioni, degli utenti, in particolare l'ANED, l'Associazione Nazionale di Alizzati, abbiamo realizzato un notevole incasso che ha permesso di attuare il progetto di climatizzazione del reparto di nefrologia dell'ospedale di Pescara. È stato attuato, sono funzionanti e oggi simbolicamente lo verrà donato alla ASLE nella persona del direttore generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti